Prodotti freschi, scaduti di validità, fraudolentemente rietichettati. Un nuovo blitz dei NAS di Pescara ha portato alla scoperta di un piccolo supermercato di provincia che vendeva ai propri clienti prodotti freschi che in realtà avevano già superato la data di scadenza. I carabinieri per questo hanno denunciato il titolare dell'attività di alimenti, un uomo di 59 anni, accusato di frode in commercio. Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, i NAS hanno ispezionato decine di confezioni di latte, yogurt e paste fresche sulle quali erano applicate delle etichette di formi dalle originali con nuove date di scadenza. All'interno dell'esercizio commerciale è stato rinvenuto e sequestrato anche il materiale necessario a cancellare le date e rinnovare gli alimenti scaduti. Dai lotti degli alimenti sequestrati, i carabinieri sono risaliti alle date di scadenza originarie, superate con le false etichette anche da tre mesi.